vediamo questo allora è un mar due realtà no è un for color anche se il verde solo per ritual ok il concetto in realtà non è che sia innovativo c'è la combo con sam più il gatto perché sam dice quando un'altra non tocca in creature e che controlli entra fai un food token sacrifica tre food e ritorna una historic card dal tuo graveyard to your hand ma in realtà la combo funziona con gatto più sem perché se tu hai un food entra gatto crea food sacrificando food crea un altro food te lo sacrifici con bartolomeo e lo fai all'infinito o con goblin bombardment e lo fai all'infinito questo è un mazzo che muore letteralmente da stone overage come tutti i mazzi di alteriax fondamentalmente e non me la sento troppo di consigliarvelo onestamente ci ha fatto ottimi risultati ci ha fatto sicuramente ottimi risultati però questo senza corda questo contro maghi might contro sonoverec ovviamente c'è la combo è quella bartolome birting ritual questi dovrei craftar me ne quattro per provarlo sto mazzo si potrebbe provare per carità eh però qui non ci metto questo non me li crafto i cazzi altrimenti c'è il piano di aggiani e quant'altro dai lo proviamo lo proviamo lo proviamo questi me li posso craftare questi onestamente eviterei di craftar me li ci mettiamo sono veri anche pt needle non c'è però contro mono verde che che questo è un combo quindi mono verde se ne prego abbastanza però io fragment mettiamo stono veri un paio oppure un pt il nido ne uno sono veri a posti questi due la modifichiamo un attimo ce ne mettiamo un paio di questi quando è che non sarà buggata qualcosa su magic arena è impossibile ok via i clerici se becchiamo mono g se becchiamo mono g non è che stiamo benissimo eh solo fragment abbiamo qualche altra modifica vorrei fare onestamente allora mono g vinciamo di combo in realtà quindi ho capito perché lui non ci punta troppo proviamolo così dai ho fatto una piccola modifica al tegax combo vediamo vediamo craft traditional historic e varie vediamo un po' il mazzo l'avete visto è quello di al tegax bel mazzetto cioè c'è quella combo lì che è caruccia se no comunque vince con le altre cose quindi al tegax combo vamos vediamo un po' può vincere come un mardu normale però c'è la combo che se non è più forte contro mono verde può essere forte quella combo lì se non trova carne che esilia subito perché virtual dice inizio il mio ansa se controllo una creatura guardo i primi sette carte posso criticare la creatura posso mettere ma ci sono gli ritual qui immaginavo trap finder allora non abbiamo il verde non è meglio il verde bianco che bisogna solo due carte per fare la combo in che senso bibi lo sto prendendo anch'io ma mi pare più complesso giocare beh c'è la combo quindi comunque devi giocare un pochino in ottica combo per me lui qua c'ha counter o cose varie comunque vediamo cioè il verde bianco rinunci a goblin bombardment cioè rinunci un po' di cose che possono essere interessanti quindi no questo è proprio l'obiettivo è creare questa combo qui serve il nero per l'incantesimo il nero c'è per bartolomeo ok perché bartolomeo fa parte della combo o hai bartolomeo o hai o hai goblin bombardment va bene anche con bombardment però devi avere comunque più che altro che l'assenza di corda non mi convince però vabbè lo proviamo secondo me tu sei più forte di me vediamo sei più forte di me sì che sei più forte lo vedo nei tuoi occhi spell pierce va bene ok vabbè witness non ho motivo di non metterlo a gianni per accantelato però non ho capito lui è che cos'è c'ha vratta quindi adesso per forza è un contro con l'urus ok è un contro con l'urus vabbè prendiamo atto vediamo che fa ok no è un altro mazzo questo qui questo è il mazzo di alteriax se metto sem questo ci fa una pratta che la metà basta rimaniamo senza niente proprio cioè oddio abbiamo le cose però ma sai che sti cazzi ciao barat buonasera buonasera caro eh ci fratta possibile che domenica pomeriggio ti ho visto in via rosta ci abito in via rosta quindi sì chi sei però inquietante questa inquietante questa cosa non diciamo il civico magari ci abito in via rosta sì abito in via rosta quindi domenica pomeriggio tra l'altro domenica pomeriggio io sono uscito no domenica sono uscito per pranzo e poi sono tornato a casa il pomeriggio quindi domenica pomeriggio ero in via rosta sì se entro le 5 sì 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 ero in via rosta inquietante questa cosa lo sai caro un po' inquietante per fortuna ero con un ragazzo prendiamo vai non hai pratte e fammi capire com'è chiudi tu perché ti faccio solo un danno no no ho fatto un plan oe ruggi come stai caro tutto bene cioè tu mi hai riconosciuto dalla voce e non mi hai salutato cioè questa cosa mi devi salutare ragazzo quindi prendono cioè questa è l'unica che può passare però c'è un però c'è un piccolo problema che io sacrifico gatto è sì che ho vinto per soldi saluto eh no cioè se abiti adesso se vuoi scrivi su discord così capiamo se abiti vicino a casa mia o no però dove mi hai visto io abito di fronte se io ero con un amico che stavo bevendo una birra io abito esattamente di fronte a dove mi hai visto quindi se tu abiti cioè se tu eri vicino a casa tua siamo pure vicini di casa allora lui non so se vogliamo togliere no mettiamo poi frevisco fragment non diciamo non di cose precise ho capito dove sei cioè abitiamo poi sentiamoci su discord sentiamoci su discord ci manca solo rendere pubblico dove abito comunque incredibile Barat incredibile sta cosa scrivimi che ci facciamo una birra molto volentieri me la offri tu perché hai appena spoilerato una cosa incredibile sono vicino di casa di uno di voi e non lo sapevamo allora c'è un fragment qua che gallur su non mi frega niente vabbè cambiamo discorso poi parliamo in privato allora cosa posso togliere i fragment li voglio davvero un paio però dai sì sì no il piacere è mio caro bastiamo un po' di questi anche se sono un'ottima risposta a Vratta no ci sono rimasto male perché non mi ha salutato il ragazzo mi riconosci e non mi saluti Sam sono indirizzato che togliere qua lui non ha visto la combo forse no vabbè beh come facevi a non riconoscermi cioè come hai fatto a dire cioè sono abbastanza evidente no come come struttura diciamo allora mettiamola cioè una volta che hai avuto il dubbio questo deck si può trovare sul mio untap appena finisco la partita lo troverai sul punto esclamativo deck vado con trap finder che tra l'altro domenica un altro ragazzo che però mi segue da youtube mi ha salutato non uno su twitch uno che mi segue da youtube allora torino ormai ogni passo c'è gente che segue segue il canale youtube o twitch di di magic ciao azza carissimo come stai perché passando la tua voce è te lì per forza beh diciamo che l'accento materano a torino è abbastanza mio witness trap finder questi sono buoni che si fa eh qua qua solo da vedere batteges quindi bene tu anch'io bene caro grazie un po' stanco ma questa è la la costante di settembre impressioni di settembre allora che ci facciamo counter a vabbè change of the equation tremana perché tremana esatto seguitemi su trez bravissimo bravissimo azza fesso spell pierce cosa ne pensi di dusk moon per ora il power level per ora sembro che è alto il power level è alto bloom borough credo che ti abbia stupito non so come visto che parliamo dell'espansione che è il power level più basso che abbia mai visto nella mia vita però comunque no dusk moon è diverso ciao alex seguite azza seguitemi su trez questa qui ha rotto il cazzo supponiamo che gigobombardment si è da acquistare sempre confermo la rana può essere fastidiosa è letteralmente il mio social è il mio social cioè proprio è ma è risparito io non ce la posso fare ragazzi perché sparisce adesso è tornato ok sparisce se cambio scena sparisce ok no vabbè sta cosa ok ma è tornato ok ma la ponte certo che ce l'ho perché adesso la chat è tornata boh mi prenderò counter qui change of the question no certo che fra tutte cose che potevano uscire porco due c'ho food un po' di danni che vi faccio qua esatto Antonio l'ho letto anch'io quella cosa ma abbiamo scombato perché io faccio è combo è combo ragazzi minchia alterax è un genio alterax è un genio no può counterare però può togliere Sam può fare una serie di cose è questo vabbè in realtà come vedete non era combo non era combo è combo quando oppo è tappato ricordatevi eh sono le interazioni però le aveva quando oppo è tappato è combo minchia l'ho anche detto serve per forza Sam capito spariamo listi down che cazzo meno ok prossimo turno facciamo l'urus più uccoso considero ok ok fatal push mi sa di no fatal push mi sa di no vai quella rana è un problema però quella rana è un problema e sì perché bastano Sam cioè in realtà se non ho trovato risposta no perché devo trovare il modo non mi basta Sam perché devo mettere una creatura per fare tesoro eh questa non lo è questa non lo è vediamo se entra Gianni non entra ok ok vabbè diciamo che non vince lui fatal push male sta playlist è spettacolare spasticissimo boh siamo a tre cioè lui a tre pesca ovviamente può pescare pure due volte non ho sparato di lurus ho sbagliato ho perso perché non ho sparato di lurus molto bene forse 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 eh nice ho capito cioè no non lo so lo so ci mancherebbe nonostante nonostante la distrazione del ragazzo che mi ha detto che mi ha visto per strada nonostante sotto casa mia tra l'altro eh nonostante le misplay sai che sto mazzo è bello meno male che non serve vabbè rimane un errore quello che ho fatto comunque rimane un errore hai capito Altegax hai capito Altegax adesso che ho fatto la partita potete trovarlo su punto esclamativo deck il mazzo beh che per forma è chiaro perché ha fatto quei risultati lui quindi per forma sicuro però è bello cioè ha due linee è un Mardu con doppia linea d'attacco quindi mi piace sì la carta verde mitica ti aiuta a cercare le creature che vuoi cioè ti fa trovare le creature della combo praticamente tra l'altro Xbarat ho visto che tra l'altro mi segui da più di un anno sono dei primi follower che ha fatto il canale cioè ancora più assurda la cosa gatto forno è bannato in historic è nerfato gatto più che bannato cioè gatto non può bloccare praticamente però gatto forno muore da piedi in needle ma dicevo che sei follower del canale dal 7 agosto 2023 quindi sei anche uno dei primissimi follower del canale tra l'altro quindi è ancora più assurdo il tutto è ancora più assurdo il tutto che non siamo mai visti beh anche Robby dai dieci mesi potrebbe essere un mirror no? perché non ha l'URUS che è fondamentale witness witness tu sei follower no tu da più tempo tu da un anno e dieci mesi da un anno e dieci mesi tu sei mio follower da quando non streamavo da quando ho fatto una live di prova sta cosa è incredibile cioè tu sei mio follower da una volta 27 ottobre 2022 che ho fatto una live di prova e poi non ho streamato per sei mesi tipo e tu mi hai messo il follow cioè sei un VIP del canale meritatissimo cazzo super VIP meritatissimo cioè se non sei VIP tu cioè ti rendi conto sei mio follower da prima che iniziassi a streamare cioè sta cosa è fuori di testa a ottobre 2022 avevo 10 follower forse su Twitch io cioè sei tipo l'undicesimo follower il dodicesimo follower una cosa fuori di testa combo cioè tu letteralmente hai visto nascere il canale perché non giochi nulla che sei stronzo cazzo cazzo cischissimo benvenuto proviamo non succederà eh non succede ma se succede ma chi se ne frega della sub ma che scherzi cazzo mene mettiamo pure gatto cazzo mene andiamo di gatto più guarda il supporto che mi hai dato tu è stato il supporto cioè probabilmente se non avessi conosciuto te nemmeno stai streamando adesso quindi sarebbe migliore la mia vita non lo so non è vero vabbè tu sei un genio Esperimental Frenzy sì questa è una bella di Alterax esatto minchia se metti Esperimental Frenzy sono tuo amico per sempre sono tuo amico per sempre te lo giuro te la concedo se fai Frenzy concedo dai vincerai lo stesso però potevi vincere concedendo penso che sia una combo questa può fare comunque Frenzy però non vale se usi tutto il mana per Frenzy e non scomba non scomba non scomba non scomba vabbè potevo ovviamente era già l'Ital ok fammi capire un attimino la situazione qua ok Payoff Enable ci siamo Fragment dai Fragment Ritual tanto 2 non le vogliamo mai lo abbassiamo penso che si possa abbassare anche in modo drastico la mana base qui va cioè io la cambia io la la prossima partita la cambio la mana base qui eh delle terre se gioco 24 terre voglio mettere delle terre che pescano sicuramente però capisco perché non abbiamo S perché non abbiamo guida e quindi ovviamente c'è il discorso che non facciamo vite però le facciamo con il gatto questa è la chiave del mazzo secondo me è una carta molto forte mettiamone due è una carta molto forte per il piano combo ma questo mazzo non ha bisogno del piano combo quindi contro un mazzo unfair secondo me possiamo fare a meno di rischiare di pescare 3 birting pod che poi non è il birting pod va birting ritual cioè il bello di questo mazzo è che non c'è una chiave del mazzo proprio questo è il bello kippo sì non abbiamo il rosso in realtà no no senti questa possiamo fare a meno perché abbiamo bombardment il mazzo di chiavi sempre delle che agg non devono ne fare ci sta cioè ci sta ci sta anche bombardment ci sta gatto eh ma la rosso quella forte ma la rosso quella forte ok ok non troppo bene qua posso fare una cosa però vediamo se lui è pazzo vediamo se lui è pazzo non è pazzo vai non mi pare sia pazzo minchia cioè questo mazzo che sta giocando dopo è meraviglioso cioè gli steamkin l'esperimental frenzy i medaglioni cioè un mazzo boomerissimo super boomer proprio wish credo che sia combo credo che no in realtà no stavo dicendo ci basta Sam per scombare no oddio no servirebbe Sam e un mazzo a parte che secondo me ha scombato lui ma non so se è uno storm lui ciao nanni grazie mille caro grazie per il terzo mese carissimo grazie 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 gentilissimo ah beh breccia sti cazzi allora breccia però non è stono veric cioè stono che risolve da breccia però a sto punto ci metto il clerico a sto punto mettiamo il clerico no preferisco il trap finder qua vai play first allora abbiamo 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 tutto tranne le terre quindi malligan ok questa è una mano finally tolgo la ticket bianco no col cazzo col cazzo tolgo la ground yes yes mettiamolo sul kipalapa no 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 ok pensavo avesse una rimozione non ce l'ha vai vabbè se peschiamo terra possiamo fare sia bombardone che bartolomeo insomma è solo che lui è un mazzo combo diamo trap finder che ci da a gianni ok vabbè facciamo a gianni bombardment attacchiamo è uguale facciamo un danno in più facciamo comunque un danno in più si gira a gianni anzi due danni in più ciao boss buonasera caro come stai tutto bene spariamo questo se ne va vai che bello lo stemma dei nove mesi tutto bene caro bene bene medaglione ok sto pensando che bartolomeo in quattro copie secondo me non è cioè senza nulla togliere dal tegax però in quattro copie considerando che abbiamo comunque sia bombardment che bartolomeo per fare e considerando inoltre che comunque serve sem e gatto per la combo non lo so non lo so non lo so forse va abbassato bartolomeo semplicemente esatto è leggendario pure credo che possa essere abbassato bartolomeo eh infatti vanno vanno cattati questi si quattro quattro non sono non sono necessari perché abbiamo anche bombardment stinking ok vabbè lui però c'è ha visto sempre si era anche questa cioè potente cioè mnesia benvenuto o benvenuta ok druido ok ciao ciao caro o cara frenzi perché devi fare le sfide colore poi se l'attivo nuovi così trovi tutto il video se vuoi che ti spiega ecco allora quel video caro è perfetto per te allora se forse non la non la vedi la modalità comunque ripeto se ti guardi quel video vedrai che poi sei domande puoi entrare nel disco per fare le domande nel disco che insomma siamo qui per aiutarti e scomba vabbè abbiamo capito devo cambiare un attimino la mano a base vado in bagno un attimo arrivo ragazzi vado in b around è Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non iniziare dallo standard, ma nel video ti spiego anche perché secondo me per un nuovo giocatore non è ottimale iniziare dallo standard. Perché è un pochino più difficile starci dietro a livello di risorse, quindi anche per farmare è un po' più difficile. Allora, abbiamo detto... Allora, la side l'ho capita più o meno come concetto. Cioè lui praticamente gioca contro l'hate che può avere. Quindi fragment per togliere l'hate. Mi è chiaro questa cosa qui. Però, piuttosto che giocare Arponier contro Maghi... Preferisco mettere delle rimozioni, onestamente, in più. Tipo... Get Lost contro Mono G. E io ci metto, anche se il nero... Vabbè, il nero è una Fatal Push la voglio mettere. Metto anche una Fatal Push. E sto meglio così. Dopodiché, io qualche terra che pesca la voglio mettere. Sì. Qualche terra che pesca la voglio mettere. Non troppe, però... Cioè, piuttosto che le Fasten, che mi sta sul cazzo poi... Vai, vai, caro. Ne faccio a buon uso. Almeno tre ettari che pesca la voglio mettere. Le Fasten mi piacciono un po' di meno. Non esageriamo. Ne mettiamo tre, eh. Perché abbiamo pure quelle altre. Non esageriamo. L'ho personalizzato un po'. Grazie. 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 senti una guida ce la metto e levo un bartolomeo ma tre sono tanti levo un bartolomeo e metto una guida se preferisco così ok non è saltato preferisco così preferisco così vediamo un po più un attimo più le terre che pescano mi piacciono a me pescare carte piace a magic quindi quelle terre per me sono sempre cioè sono sempre molto forti da mettere e quindi boh vediamo ok anche lui è che si è sdoganato il mazzo il mazzo combo di alteriax abbiamo capito si è sdoganato mi preoccupa un po la mancanza di interazioni in un match up del genere bombardment può togliere aggiani aspetto però non aspetto più troppi gatti cazzo no proprio per il disco c'è può togliersi pure questo qua troviamo tutto va ok tap finder ok diciamo che i sem ce li abbiamo poi c'è un sem più bartolomeo più non è sì sem più bartolomeo no facciamo così adesso perché preferisco fare dopo sem più bartolomeo non serve avendo un bling bombardment facciamogli usare le risorse per toglierci il nostro sem tanto ne abbiamo tre ok ok devi toglierti pure questo che me lo tica faccio andiamo a 11 ok perché se si dovesse tappare sem che fa ok cioè se mi da raptor mi da gatto abbiamo vinto non abbiamo vinto però perché può toglierci sem però si deve togliere aggiani più questo no se esce gatto intanto il futuro facciamo non è gatto peccato ok ok facciamo energia e sta a te purtroppo e lui speriamo non abbia una creatura non ce l'ha ok dammi gatto 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 posso ancora pescare gatto dammi gatto in realtà posso fare a gianni no aspetta fai pensare un attimo allora lui adesso fa fa l'urus faccio comunque a gianni vengo doppio pezzo vai così può fare un po' di casino però vediamo è questo ok ok ho perso per le terre mi sa perché andiamo a 4 3 1 ho perso per le terre per i danni delle mana confluence vabbè facciamo lo stesso ma ho perso per le terre se vuole togliersi l'urus lo toglie no si toglie l'urus flippa gianni e vince 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 comunque qualsiasi cosa faccia vince perché purtroppo siamo bassi di vite andiamo a g3 ma g2 cioè stone overage sicuramente vado al push get lost fragment anche se fragment serve di meno abbassiamo bartolomeo li toggo anche tutti onestamente 2 birt in ritual un trap find e un witness vai ok ci manca sempre un mana all'appello però questo è da tenere ovviamente ok vai togliamo sem ok witness cazzo il mana rosso maledizione il mana rosso vai prende a gianni sempre lui qui mi tocca mi tocca mi tocca perché se no se avessi tolto a gianni lui rifaceva il giochetto all'infinito così facendo se non topdeck o se non ha goblin bombardment se no se c'è la bombardment abbiamo perso ok andiamo alla prossima siamo bloccati con il mana vado a prendere il ventilatore però è tornato a fare caldo no 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 Siamo piantati un po' con il mana in entrambi i game, anche se con Stone Overage dovremmo essere messi meglio anche rispetto alla versione sua nei mirror. Tecnicamente, John Lawrence, vai! Oh, 24 terre giochiamo, eh! Mulligan, incredibile! Questa la tengo per forza, che va da 5. Via Bartolomeo, Trapfinder. Non ho il mana nero, però, cioè, questo frega un cazzo, via quella, lasciamo gatto, comunque... Ah no, due solo andavano tolti, ok, giusto. Guida. Non capisco, ci stiamo purtroppo... Stiamo andando male con le terre, purtroppo. Non lo stiamo giocando, cioè, non lo stiamo nemmeno mettendo alla prova davvero il mazzo, perché... O screw, o color screw, o quant'altro. Sta capitando la stick. Questo è G-Sky Control. Credo, sì, dovrebbe essere G-Sky Control. Che significa che se si appoggia a Bombardment, si ha buon punto. Ok. Intanto, John Lawrence dovrebbe essere un follower del canale, se non ricordo male. Allora, attacchiamo, facciamo Raptor qua. Facciamo Raptor, perché voglio girare Bombardment. Credo verrà counterato in ogni modo, però vediamo, proviamoci. Fatti. Sono le vrate il problema, se non giociamo Bombardment. Picchio. Facciamogliela fare, se ce l'ha. Tiamo Sam, ne abbiamo un altro. Lockdown. Ok. In realtà, cioè... Non è che ci voglia tantissimo che manca, eh. Se lì sono tutti sempre, abbiamo ancora l'altro. Abbiamo Sam e Gatto in mano. Tecnicamente, se riusciamo a risolvere... Se tipo peschiamo Bombardment, risolviamo Bombardment. Terra va bene comunque. Non lo faccio, Sam. Facciamo a Gianni qua. E passa. Ce lo esplode. Ok. Ha senso mettere Gatto? Sì. Anche perché ha 10. Quindi vediamo un attino anche, eventualmente, piano aggro. Ok. Lo puoi rifare. Ending, ok. Minchia, è incazzatissimo. Risolvo questa. Ok. Rifar Flash. Si tappa, però, perlomeno. Si è tappato. Ok. L'unica è questa, però... Dammi un drop a uno, va. Un drop a uno qualsiasi. Vabbè, ragazzi... Cioè... Abbastanza uguale, no? Siamo riusciti a scombare? Siamo riusciti a scombare? Siamo riusciti a scombare? Incredibile. Cioè, questa qui era persa. Era persa questa qua. Incredibile. Siamo riusciti a scombare. Allora, qua Fragment si mette sempre, perché lui metterà tutto l'hate del cimitero possibile. La 7 è pure Might. Might contro Temporary Lockdown, mi piace. Ho 4 Might invece di Fragment. Guida non serve. Bartolomeo li possiamo togliere. Forse va bene 4 Might e basta qui, sti cazzi. L'andrei proprio liscia così. Quest'altro possiamo mettere, se no. Questa per togliere Flash. Ma Flash, essendo un mazzo combo, noi, sinceramente... No, lasciami così. Oddio. No, lasciamo così. Che bella mano. Dobbiamo risolvere Bombardment qua. Ok. 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 Baitiamolo, va. Facciamo un bel bait qui. Lui fa Lockdown, lo possiamo togliere con Might. Non prima di aver fatto questa cosa. Ok. Possiamo fare delle porcate, ragazzi, che nemmeno nei video più spinti. Fai Flash. Non te l'aspetti, il Might? Ci toglie Bombardment, che fa? Porco 2. Qua forse cerchiamo l'altro Bombardment, ad esempio. Può essere un'idea. L'altro Bombardment può essere un'idea. Ok. Che è esurgical? C'ha esurgical il bro. Hai capito? Facciamo così. Esurgical. Sei pazzo? Ok. 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 Paghiamo, esiliamo, ci riprendiamo a Gianni. Lo flippiamo, facciamo il casino. Facciamo il devasto. Lui assurge che l'è in mano. Flippo. Cos'è ammesso Braderous Hand? Zero, c'è un tuoi danni. Vai. Palla a te. Palla a te. Ok. 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 Non me ne frega niente. Cioè, addio al piano Sam Gatto, eh. Però... Diciamo che sono apparecchiato. Due, un po' too much. Ok. Ma io lo metto lo stesso. Raptor. Eh, andiamo di aggro. Ok. Ok. Tra l'altro, anche se sacrifico... No, non abbiamo marionetta qui. Ecco, manca un po' quel discorso marionetta, cose simili. Ok. Prego. Allora, se scivratta, noi li facciamo 5 danni. Perché anche se fa flash possiamo... A meno che non ce lo fa faccia, possiamo togliere in risposta il bersaglio. Decivratta, facciamo 5 danni. I trap finder fanno altri due pezzi. Sono di quelli... E a Gianni. Ecco, un po' di casino facciamo. Certo, la fratta che toglie pure... Ecco qua. Porco 2. Però ti toglie pure questo, eh. Ti toglie anche questo. Ti toglie pure quello. Eh sì. Ci toglie food, però. Allora, possiamo fare poi a Gianni, Bombardment. Vai. Esilia le ultime cose da esiliare, prima che se la tolga. Lui va a 8. Si è tappato. Ok, assurgical, però. Lui c'ha questa assurgical in mano da una vita, secondo me. Però, non puoi esiliare a Gianni perché non c'è nel cimitero. Perumana, cazzo. Perumana. Aspetta. Aspetta. Allora, se faccio Sam, a Gianni e Gatto facciamo 3 food. Sacrifico i 3 food e mi riprendo Bombardment dal cimitero. Ma sti cazzi, c'è. Eh, Bombardment è un historic card? Stai pazzo. Spero che Bombardment sia un historic card. No, non lo è. Gli incantesimi non sono historic card. Però ho fatto una cazzata. Ho appena fatto una cazzata. Cazzo. No, gli incantesimi normali non sono historic card. Saga e, vabbè, sti cazzi, lo mettiamo. Eh, ho sbagliato allora. Mi ero ingolosito. Mi ero ingolosito senza motivo. Si ha un'altra fratta su cazzi. Si flippa ma non ha senso flipparlo. Eh, facciamo lo stesso. Ma no, è l'Ital anche qui, non me ne ero accorto. È l'Ital. A meno che non abbia Surgical. Se non ha Surgical è l'Ital. Non ho modo di togliermi gatto, in realtà, quindi no. Quattro mana. Se non ci esiliano, minchia, ragazzi, è una bomba sto mazzo. È una bomba sto mazzo. Cioè, letteralmente vinci senza accorgertene a volte. Bomba viciniale. Eh sì, perché sto pensando però... No, è una bomba. Devo entrare solo un po' nell'ottica in più. Cioè, giocandolo, secondo me, diventa un po' più automatico. E forse non è guida la carta in più che ci serve. Però, quattro Bartolomeo no. Vabbè, intanto il mazzo è questo. Poi lo continuiamo, ragazzi, la prossima volta. Poi lo continuiamo. Poi lo continuiamo.